E' una donna, direttamente da una serie videoludica, la serie videoludica forse più apprezzata degli ultimi tempi, la donna proibita, è capito che ti parlo, direttamente da Tomb Raider, grazie, intente da Tomb Raider! Aggressivissima Laycroft, anche tu ho visto nomi particolarmente interessati, Laycroft, e interpreta Lady S.L.F.A.K.A.I.B.U.S. da Lady S.L.F.A.K.A.I.B.U.S. Lo sapevo che si cascava! Da Lady S.L.F.A.K.A.I.B.U.S. Da Kuro Shizuchi! Da Kuro Shizuchi! Da Kuro Shizuchi! Eccola lì! Eccola lì! e ringraziamo gli secondi applausi da Magic the Gathering, Angelo del Patto di Italia, Nelzi! Grazie! E allora andiamo a capare subito il numero 4, lui si chiama Alberto e da L.C. Waterman in temperament in un cappellaio matto! E ringraziamo il cappellaio matto! Grazie a tutti! Ciao! Ciao! Grazie Naomi! E passiamo subito alla Magic the Gathering e ci porta un Original! Grazie a tutti! E allora Jamie va e torna la numero 10! La numero 10, direttamente dalla serie Peritonese, Chiara interpreta Elsa Scarlett! Gli penta! E' mantenuta la一ra così tardi! E che interesa si fa ammirare a spaccio via? E risolverò che esordi un accessorio? Una Lancia! numero 11 non ne ho manaccio dalla barba dalla barba ho il numero 11 si chiama Mario e interpreta Jack direttamente da Final Fantasy Tissidia grazie Jack aspetta dobbiamo andare via che ti ama qualcosa non hai palpato l'addominale non hai palpato anche tu grazie e adesso invece la Delegio Prof. Zelda Dino interpreta Scout King grazie grazie ok e adesso passiamo alla numero 13 lei si chiama Angela e interpreta Diana Dea Lunare da di l'efat di l'e da di l'e di l'e di l'e di l'e grazie Angela finalmente caro Luca la prima coppia direttamente da Sport Up Online Serena e Mauro interpretano Asuna e Chivito grazie a tutti grazie a tutti grazie ragazzi infatti vi è arrivato dalla giuria e scendete davanti al palco e rimaniamo sempre nel mondo dei video giochi online quindi torniamo da League of Legends lo facciamo sentire sul palco aspetta aspetta allora di nuovo ci sarei parlato di un viaggio un viaggio League of Legends anche super lui si chiama Francesco il numero 15 e da League of Legends interna Gentleman Trash grazie a tutti grazie a tutti e passiamo alla prossima coppia direttamente da Dragon Age Boricino e Dragon Age Luisa e Aurora di Terno custode grigio e Morigam grazie a tutti grazie ragazzi fatevi vedere bene dalla giuria e Jerry chiederei di passare subito la prossima coppia Luca la prossima coppia numero 18 loro sono Alessandra e Silvia che interpretiamo Rina e Alexis da Ice World la prossima coppia la prossima coppia Sventagliamo un po' ste mani, vediamo se è la scatola polintesca